Anche Thomas Manfredini, anticipato da Balotelli, la palla è per Bellini che ha un bel sinistro, mette dentro il pallone, salvagaggio di Giulio Cesar su tocco di cambiasso, Snyder, dentro il pallone per Milito, agganci in area di rigore, Milito prova a passare, Milito lotta ancora, Milito, Diego, Milito, il Principe fa 1-0, ha vinto 3 rimpalli, non gliela levano mai in area di rigore, il pallone in genere di Snyder lo mette lì, invece va dall'altra parte e prende la traversa, il pallone di Snyder ed è il secondo giallo per Snyder, è giusto, è giusto, è giusto, il secondo giallo, Acquafresca anticipato, si disinteressa del pallone Milito, arriva Eto, Eto! Caserta, cerca subito il pallone per Tiri Bocchi, si vale, Tiri, Tiri Bocchi! Fa un po' fatica a recuperare l'Atalanta, dentro il pallone per Eto, 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 Eto! E poi un miracolo di Coppola! E poi Milito dice che può passare, manda tutti sotto la doccia, perde una grande occasione l'Inter per staccare tutti in classifica.